Ciao a tutti ragazzi, io sono Aki ed eccoci qui con un nuovo episodio della Legacy Challenge. Mamma mia, mi sembra una vita da quando non ho registrato un episodio nuovo, perché dato che sono partita all'inizio di questa settimana avevo pre-registrato dei video, avevo già registrato un video della Legacy, solo che purtroppo non si è registrato il microfono, quindi non potevo postare quel video senza il suono, purtroppo non sono riuscita a recuperarlo, quindi la storia è andata un pochino avanti, diciamo sono successe soltanto due cosette interessanti, che ora vi dirò. Come vedete anche la casa è diversa, perché praticamente ho fatto passare a avanzare di età il piccolino il piccolo Jeremy e quindi ho dovuto un po' modificare la casa, fargli la stanzetta carina e così ho deciso anche di aggiungere un piano di sopra che ora vi farò vedere. Come altra cosa interessante che era successa in questo episodio praticamente Dane ha fatto pace con Tobiah, praticamente Tobiah è venuto a casa, i due hanno parlato, Dane gli ha fatto vedere il piccolo Jeremy che era ancora un bambino, cioè un neonato praticamente, e lì praticamente niente, credo che Tobiah si sia rassegnato, onestamente non ne sono sicura perché Tobiah è imprevedibile, io non lo capisco, quindi chissà se davvero si è rassegnato, però per il momento sembra così. Quindi vi faccio vedere la casa, fuori è più o meno così, non vi faccio vedere l'esterno, il giardino praticamente perché sono tutti lì, così poi vi faccio vedere il piccolo Jeremy. Allora iniziamo subito ed entriamo in questa casa. Allora qui, non mi ricordo se vi ho fatto vedere, ma ho cambiato praticamente qui i mobili, cioè i banconi, non ho modificato il frigorifero e il forno, però presto magari lo faremo, ho dimenticato di accendere le luci comunque, vabbè. Qui c'è il seggiolino, il seggiolone di Jeremy, così lui può mangiare assieme a noi, qui ho messo questo tavolo, non ricordo se c'era prima il tavolo così, comunque ho aggiunto questo tavolo, poi qui ho messo, praticamente ho lasciato le cose come erano, forse ho aggiunto questo quadro, poi qui c'è sempre questa zona con il computer e poi lì c'è sempre il bagno, come al solito, sempre ho aggiunto solo ovviamente il vasino per il piccolo Jeremy. Mentre in questa stanza ho messo praticamente la stanza U, la stanza del piccolo, che è questa qui. Le pareti sono azzurre, ora non si vede tanto, cioè sono credo sul giallino chiaro e azzurre. Ho messo questo lettino, qui ho messo questa, questo come ho, che forse già c'era prima quando ancora erano neonato, non ricordo. Comunque ci sono queste cose, niente di speciale perché ovviamente sempre dobbiamo stare attenti ai soldi. Comunque, aiuto, che sta succedendo? Andando su, vediamo se riesco ad andare su, sì ce l'ho fatta. Allora qui c'è la camera di Dane e stavo dicendo Leslie e Bailey. Ho messo lì lo specchio, poi qui c'è il letto con queste due candele così, ho messo questo quadro, qui c'è il comò, lì c'è uno specchio con una poltroncina e poi in questa stanza più avanti ci farò, ah no già l'ho fatto, ok. In questa stanza c'è il bagno, non me lo ricordavo che c'era perché ovviamente avendo il bebè adesso dovremmo fargli il bagno, quindi ho aggiunto questa vasca e niente, più o meno così. Mi piacciono i bagni semplici come potete vedere, sono sempre sul bianco, poi c'è qua un po' di blu, niente di che comunque. E niente, questa è tutta la casa, adesso vi faccio vedere il piccolo Jeremy perché è diventato un bebè, aspettate che vado più veloce, troppo, troppo giù, troppo giù. È diventato un bebè ed è carinissimo. Allora, secondo me somia tantissimo a Bailey, però ha i capelli neri ed è questo qui. Perché lui ha questa faccia? È sconvolto. Guardate che duci, vabbè è un termine siciliano, scusate. Comunque è dolcissimo, guardate che carino, è troppo bello. Non so perché Danny lo guardi in questo modo così sconvolto, ma comunque tu, ok, lei è drogata, va bene, a posto. Aspettate che gli faccio una bella foto perché è terribilmente adorabile. Aspettate, magari così. Bellissimo. E niente, diciamo che questa è tutta la casa. Il giardino praticamente non è niente di che, poi magari lo modificheremo. Anche qua il retro della casa non è niente di speciale. Qua non mi piace tanto, vorrei metterci una finestra. Però poi vedremo, anche perché questa è solo una casa iniziale, poi se avranno anche più figli, ovviamente la casa la allargheremo molto. Comunque, allora, in questo episodio io vorrei fare delle cose un po' interessanti. Intanto tu vai in bagno. Vediamo un po' di aiutare qui i loro bisogni. Tu ti guardi questo e tu hai sonno, mio piccolino. Vai a dormire. Bene. Allora, siccome ho visto che Dane praticamente gli mancano solo due giorni per diventare adulto, che è successo? Tresimole? Ah, abbiamo il stretto quello dei soldi, ok. Gli mancano solo due giorni al passaggio di età, io volevo, prima che lui passasse di età, volevo che lui sposasse Bailey. Quindi, non so, magari potremmo andare in qualche posto romantico, magari vanno a cena fuori, lasciamo il bambino alla babysitter o lo mandiamo all'asilo e passiamo una bella cenetta romantica, così lui può magari chiederle di sposarlo. Quindi, chi lo sa, vediamo. Vediamo che cosa succederà. Intanto tu ora puoi andare... Perché questa luce è accesa, luce automatica, tutte le luci, ok. Tu stai andando a dormire, tu sei a posto, va bene. Ok, ok. Sì, vai anche tu a dormire che è tardi. Ah, le rane. Praticamente, come vedete, lui non le ha più, perché ho scoperto che anche se abbiamo solo queste due rane, io posso, ora non ve lo posso far vedere, comunque posso far accoppiare la rana, poi se le passo a Dane, lui potrà farle accoppiare di nuovo. Quindi non aveva senso avere due, due, due. Va benissimo averne semplicemente due, quelle le ho vendute. Ora abbiamo solo 14 simoleon, il che è un po' imbarazzante. Però almeno la casa è quantomeno decente. Sì, qui non mi piace tanto perché mi sembra un po' vuota, però poi vedremo. Posso farle accoppiare? Così magari... Uh, manca poco al compleno di Dane, lo so. Oh, posso farle accoppiare, aspettate, vi faccio vedere. Per esempio, io faccio far accoppiare la rana con... Facciamo così, intanto questa la vendo. E poi se io faccio così, gli ho passate a lui e anche lui potrà far accoppiare le rane. Ora non so se posso farlo anche col bambino. Facciamo la prova. Sì! Oh, ma questa cosa è molto bella. Ok, vediamo anche queste. Ok, le ripassiamo a lei. Va benissimo. Ma voi andate al lavoro? Ok, tu non vai al lavoro, ottimo. E neanche tu perfetto, il giorno perfetto per dichiararsi. Già stanno assieme, però... Per... Come si dice? Per chiedere la mano di Bailey. Sì, però aumentiamo la velocità. Oddio. Ho saputo che proprio ora c'è una festa magnifica al locale notturno. Vuoi farci un salto? Ma sei impazzito? Sai che abbiamo un figlio? No, guarda, non è il caso. Non è il caso che domani è un giorno importante. Va bene, ci vediamo appena si svegliano. Ok, si sono svegliati. Lui sta andando a fare la colazione e lei sta facendo una doccia. Il piccolo ancora dorme, però ha fame, quindi appena si sveglia lo mettiamo nel suo seggiolone e gli diamo qualcosa da mangiare. Lui sta facendo la macedonia, quindi magari potremmo dargli la macedonia. Vediamo un po'. Tu continui a fare la doccia, tranquilla. Mi sa che lui non è molto bravo in cucina, comunque. Vediamo l'abilità. Eh, uno. Speriamo non ci bruci qua i nuovi banconi. Cioè, se ci brucia i nuovi banconi, io lo denuncio. Avevamo pochissimi soldi, ho speso un sacco per avere questi i banconi, mio caro Deine. Ah, comunque, ragazzi, mi scuso per questa settimana un po' traballante quanto a video, ma purtroppo, ripeto, sono partita e quindi non sono riuscita a gestirmi benissimo. Però comunque, dalla settimana prossima cercherò di riprendere il mio solito ritmo e quindi ci saranno video ogni giorno, spero. Ok, allora tu mangia. bravo. Magari ti guardi un film e fai guarda... no, fai guarda un film con... e vi guardate... Il ritorno del cane sperduto. Tobaya. Tobaya è qui? Un secondo. Un secondo, perché mi dice... No, allora, qui non c'è. Sarà nei paraggi. Ma non è che ci sta. Dov'è? Ma non c'è. No, il gioco è impazzito. Dov'è? Tobaya, non c'è. Vabbè, meglio così. O forse da questa parte. Oh, eccolo! Ma guarda che sguardo che ha! Cioè, è indecifrabile, non si capisce se ha buone cattive intenzioni. Cioè, che cosa ci fai qui? In un quartiere così per famiglie e passa lui così a caso. Ma mi sembra alquanto, alquanto strano. Tu che stai facendo? Ah, aspetta di guardare. Va bene, va bene. Il piccolino lasciamolo dormire finché può. Anche se penso che a momenti si sveglierà. Ok, dai. Ma tu vai a... Scusami, eh. Ma dove prenditi la macedonia? Prima di... Prima vedi... Niente, sono impazziti questi sim. Poi fai guardare il film. Ah, possiamo le rane? Sì, perfetto. Ok, ok. Vendiamo. Ok. Passiamolo a lui. Vendiamo anche queste. Ok. E infine anche a lui. Ok. Perfetto. Allora, per quanto riguarda la proposta, pensavo di farli andare magari nel pomeriggio. non so ancora dove li faremo andare. Però vedremo adesso. Intanto gli faccio fare colazione qui tranquillamente. Si prendono un po' cura del piccolo. Anche se comunque... Perché si diverte mentre dorme? Forse perché... Oh, si è svegliato! Ok, dato che lui è finito di mangiare, facciamo qui e facciamo... Dai il cibo a Jeremy. E per colazione gli diamo magari i cereali. Ma sì, dai, i cereali. Dai. Vai a prendere il tuo piccolino. Guardalo come aspetta. Ah no, si è alzato. Perché è triste? Ah, perché ha fame. No, 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 non prendere. Tanto ti stiamo dando... Piccolo! Effettivamente gli potevamo dare la macedonia. L'avevo detto prima, ma me lo sono dimenticata. Vabbè. Diamo gli cereali, non importa. Ok, mangi? Sì. Ma che cosa fai? Tu vai in bagno e praticamente dovresti essere a posto. Sì, lei si sta disperando per il film, va bene. Comunque è bellissimo. Oggi hanno tutti i bisogni abbastanza alti. Anche il piccolo, diciamo, ha un po' bisogno di divertirsi, però sta benissimo. Guardate che carino! Cioè, secondo me è la copia di Bailey in faccia. Avrà anche i capelli neri, ma è la copia di Bailey. Assolutamente. Aspettate, appena... Cioè, è Bailey! È Bailey, assolutamente! Scusatemi! È lei! Oddio, se non esceva biondo era Bailey. Ah, perché ha finito. Aspetta, aspetta, lo metto giù. Tu che stavi facendo? Guarda, no, mettilo giù. Aiuto, come si fa? Fai uscire. Così magari gioco un pochino. No, potremmo anche giocare, proprio. Dai, facciamo proprio... Oh, gioca! Tu, invece, magari mi riponi questo. C'è qualcosa da pulire? Mmm... Sì, questo. Ripuliscimi questo. Ma nel frigo c'è qualcosa... Ci sono solo cose da colazione, a parte i tacos e pesce. Magari prepara qualcosa giusto per passare un po' il tempo. Facciamo... Facciamo... Mmm... No... Facciamo... Cosa facciamo? No, il curry no. Ah! Sto pensando che io, nella mia current household, quindi con Leslie, avevo comprato quelle spezie. E servono praticamente per cucinare questi cibi, a quanto vedo. Ah, non lo sapevo. Ok, ok, va bene. Comunque, fai questi maccheroni e formaggio. Voi state giocando? Tra poco. Voglio fare delle foto, però. No! Tutto ciò io non lo accetto. No! Che carini! Sono ad... No, no, no. No, mi rifiuto, guardateli! Guardateli! Guardate, Dain, che felice! No, mi rifiuto! Mi rifiuto! Sono bellissimi! Aspettate, devo fare le foto, assolutamente! Non posso perdermi questo momento! Cioè, guardate! Guardate! No, è bellissimo! Io li adoro. È ufficiale. Che è successo dove sono finiti? Facciamo così. Vi prego! Sono adorabili! Sono adorabili! Guardate la faccia di lui! No, niente, li adoro. Ragazzi, sono innamorata. Troppo carini, troppo carini. Ma che succede qua? Ok. Ok. Niente, bellissimo. Sono felice. Ok, tu hai finito. Che stai facendo? Scopri cosa sta succedendo. E che vuol dire? Ah, li sta guardando così. Vabbè, fai i riponi. Ma che? Che vuol dire sta cosa? Guarda. Ma tu tipo... Dovresti andare in bagno in realtà. Magari, sempre Dane, ti può aiutare qui a usare il vasino. Dai. Su, su, su. Tu. Guarda, no. Tu potresti. Magari, vai in bagno qui. E poi... C'è qualcosa che devi fare per il lavoro? No. Però tra poco lei avrà la promozione. Bene. Ah, occupati un po' delle piante. Innaffiale, dai. Mentre loro imparano qua ad usare il vasino. Cioè, loro. Lui. Jeremy. Mi piacerebbe tanto avere una piccolina. Dai, un futuro, un futuro. Ok, acquisita l'abilità di vasino. Bene, bene. Però magari andiamo un po' più veloci perché ogni volta ci stanno tanto. Su, 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 su. E poi che vuole fare? Vuole giocare. Balbetta Dane. Chiedi di farti leggere un libro. E gioco con i blocchi nidificati. Lei sta innaffiando? Sì, brava. Dai, ci sei quasi. Oh, bravo, bravo. Guarda. No, vai a giocare qua con i blocchi. Impila. Che carino. Ok. Allora. Dato che è tutto a posto. Magari. Li faccio cambiare a tutti e due. Vabbè, cambiatevi direttamente da qui. Facciamo. Sì, dai, quelli formali. Che ancora non li ho utilizzati. Abiti. Cambia abito. Formali. Neanche mi ricordo quali sono quelli suoi. Vabbè, lo scopriremo. Ok. Voglio vedere quelli di Bailey. Uh, bello, bello, bello. Ok. Detto questo, il nostro caro Dane farà un bel viaggia. Viaggiamo con Bailey. Vai, è sempre in mezzo. Ma com'è? Oh. Vai. E viaggiamo. Ok, li ho fatti venire qui ai prati di Maishuno. Perché ho pensato che magari prima possiamo passare così una giornata tranquilla al parco. E poi la sera andranno al ristorante, magari al sushi. E lì magari lui farà la sua proposta. Quindi, 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 quindi. Siamo qui. Vediamo un po'. Intanto potremmo lanciare una moneta. Sì, dai. Facciamo che venite qui tutti e due. Dai, su. Venite. E facciamo. Lancia una moneta. E anche tu lancia una moneta. Oh, carini. Ok. Detto questo, potremmo... Vediamo un po', esploriamo un po' la zona. Ah, ma qui c'è... Ma è felice, però. È felice. Proviamo. Dai, dai. Esprimi un desiderio. E... Aiuto. Vai, Simoleon. Tu vieni pure. Per dare qua conforto. Oddio. Possiamo ricattare qualcuno, mi sa. Una grande... Sì, sì, sì. Oddio. Oddio, chi ricattiamo? Chi ricattiamo? No, questa cosa è molto interessante. Vediamo quanti soldi ci danno. Tu. Ai, ciao. Oddio, ma è la nostra collega? No, dai. La nostra collega no. Lui. Jerry Springstone. Dai. Jerry. Facciamo una presentazione amichevole. Anche se poi ci odieriamo a morte. Tu vieni pure. Sempre per... Per supporto morale. State arrivando? Sì. Guarda come corre con i tacchi. Magari riuscissi a correre io con questi tacchi. Ok, dai. Fate amicizia. Posto? Sì. Ciao. Adesso però ti dobbiamo ricattare, amico. Come fare amicizie con le persone così. Sì, sì. Zitto. Basta parlare di Muffin. Ti devo ricattare. Oddio, chissà quanti soldi ci dà. Quanti ce ne dai? Quanti? Oh! 4163! Oh! Ma è fantastico! È la prima volta che il pozzo mi dà una gioia! Niente. Giornata fantastica. Di bene... Guardate che carini! Di bene in meglio. Di bene in meglio. Assolutamente fai qualcosa di romantico, dai. Questo cos'è? Stringi, ok. Stringila. Stringi pure Bailey. Proponi le nozze? Tra poco, tra poco. Sì, però vattene. Ti abbiamo ricattato. Adesso non ci servi più. Mi rovini le foto! Mi rovina le foto questo. Già è arrivata. Ma guarda un po' che sta succedendo. Qui c'è qualcosa che non cosa. Ok. Sì, però magari ce ne andiamo. Andiamo da qualche altra parte perché lui mi rovina le foto. Allora. Lui potrebbe fare qualcosa con il pozzo. Volendo è ancora felice. Cioè questa puntata doveva essere più che altro per la proposta. Invece si sta rivelando una puntata per il pozzo. Dai dai, andiamo, andiamo. Mi sento fiduciosa. Magari ricattiamo di nuovo Jerry. Vediamo quanti altri soldi ci dà. Perché, scusa, sei felice? Hai il cappuccio adesso? No, e allora no. Non mi freghi, posso. No. Facciamo. Potremmo fare fichi fichi. Magari prima facciamo qualcosa di romantico. Tipo possiamo tenerle le mani. Sì, sì, tieni la mano. Vai, tieni la mano. Poi fai professa, amore eterno. E poi vediamo un po'. Dai, facciamo un bacio. E poi ci sta, dai. Così a caso. Ah, mi sa che l'appuntamento ormai è per pranzo. Oh, che carini. Quella. Lui ora è flertante. Cioè, felice barra flertante, non si capisce. E lei pure, ottimo. Dai, andate nell'osservatore. Oddio, forse ho ancora il rischi uhuhu. Quindi il fichi fichi rischioso. E vabbè, tanto... Cioè, se vengono bambini, meglio. Ok, bravi. Divertitevi. Questa interazione in realtà con l'osservatorio non la faccio mai. Perché in realtà l'osservatorio non lo compro mai. Quindi non ho mai... Non l'ho mai utilizzata. Interessante. Vediamo qualche altro... Uh, potrebbe chiederglielo qui. Com'è? Voglio vedere se è carino. Dai, è carina qui la proposta. Ok, voi vi siete divertiti. Dai, chiediglielo qui. Non mi interessa, andate a mangiare dopo. Sì, sì, voglio finire l'episodio con la proposta, assolutamente. Dai, dai, dai. Ok. Magari però facciamo che... Aspetta, siediti un attimo qua. E sediti un attimo qua. Sembrerà una cosa scema. Però voglio farli alzare... E farli mettere entrambi di fronte. E tu vai qui. Non sono esattamente di fronte, però... Eh... Ci accontentiamo. Dai. È il momento. Siamo pronti. Dov'è? Dov'è? Ok. Io vado, eh. Io vado. Uno. Due. E tre. Vai. Devo fare foto. Aiuto, aiuto. Non me la voglio perdere. Oddio. Fermi, fermi. Devo fare foto. Perché non si vede niente. Ok, ok, ok. Fermi, fermi. Come sclerare in diretta. Ok. Oh, guardateli. Fermi, fermi. Che lei è scioccata. Devo prendere anche... Oh, guardatela. C'è come rovinare un momento. Oh. Oddio, se dice di no. Ma non penso che dica di no. Cioè, mi rifiuto di crederlo. Perché guardi là sopra? Lei è lì. Dice di sì? Dice di sì? Oh mio Dio, perché non sembra convinta? Sì, è convinta. È convinta assolutamente. Ok, ok. Ok. Oh, mi era mancato a registrare la legacy. Non so se si nota. I miei cuori si sposeranno. Ok. Allora, io su questa nota fantastica termino l'episodio. Sono felicissima. Si sposeranno. Sono felicissima. Magari, dato che lui ora deve fare il compleanno, potremmo fare il compleanno e il matrimonio insieme. Quindi, due piccioni con una fava. Sarebbe molto molto carino. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io comunque vi mando un bacio enorme. Vi ricordo di mettere mi piace, di commentare e di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.